Importanza e risultati degli incrociamenti in avicoltura Asterisco 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 Importanza e risultati degli incrociamenti in avicoltura Teodoro Pascal Importanza e risultati degli incrociamenti in avicoltura Catania Francesco Battiato Editore Via Androne 28.910 Proprietà letteraria 1. Generalità Importanza scientifica e pratica dell'incrociamento L'argomento che maggiormente interessa l'avicoltore è l'incrociamento Difatti dal suo studio si deriva la teoria dell'allevamento che comprende le leggi della ereditabilità, della variabilità e della elezione e perciò l'interesse che offre la conoscenza dell'incrociamento è eminentemente scientifico ma in pari tempo anche eminentemente pratico Egli è evidente che dotti osservatori e celebri allevatori vi abbiano, per conseguenza, dedicata tutta la loro attenzione Ma purtroppo, nonostante le feconde osservazioni di tanti uomini insigni, resta molto da investigare nel campo dell'incrociamento Ciò dipende, in gran parte, dalla non curanza della generalità degli allevatori che non sogliono intraprendere determinate esperienze coi loro volatili onde contribuire poi, col frutto delle loro informazioni, a far conoscere fatti che la scienza dovrebbe decifrare È provato dalla pratica che senza la perfetta conoscenza delle leggi che governano la trasmissione dei caratteri Nessun allevatore potrà conseguire risultati perfetti Una lunga esperienza mi ha talmente persuaso di questa massima Che non ho potuto fare a meno di occuparmi dell'argomento È questo uno studio che l'allevatore illuminato non può assolutamente trascurare Chi vuol perpetrare nei suoi allievi caratteri voluti dal codice di policoltura dovrà Oltre c'è osservare un allevamento razionale Anche tenere presente in modo essenziale tutto il bagaglio di cognizioni che era chiuso nella teorica dell'allevamento Le leggi che i vi si contengono bene applicate Condurranno gli allevatori agli sperati trionfi Gli inglesi, maestri nell'arte dell'allevamento, non trascurano la scienza dell'allevamento E connettendo questa a quella, ottengono quanto di meglio si possa desiderare B. Definizione del termine incrociamento e obiettivi dell'incrocio nell'allevamento Al solito, in avicoltura, il termine incrociamento si riferisce all'accopiamento fra individui appartenenti a razze o specie diverse Mentre che in zootecnia l'accoppiamento fra membri di una medesima razza costituisce anche un incrociamento Così ad una gallina alla quale si è dato un gallo di uguale razza Ma di altra provenienza Si dirà che si è incrociata la gallina a scopo di rinsanguamento Mentre che se il gallo fosse di razza diversa della gallina si direbbe d'avere incrociata la Razza per migliorarla o per trasformarla in una nuova E finalmente si direbbe, nel caso che si unissero in matrimonio due individui di diversa specie Di aver provocato l'incrociamento per ottenere degli ibridi C. Rinsanguamento per mezzo del gallo o della gallina e rinsanguamento alternato Avete un branco di galline col rispettivo gallo Quest'ultimo, sultano nel suo harem, unico e solo padrone delle carezze delle sue compagne Attira appunto perciò la vostra attenzione È vero che il gallo è più bello delle galline e per mantello e per imponenza Ma è anche vero che le sue proprietà fisiche risaltano maggiormente perché l'osservatore riposa su di lui Unico campione, lo sguardo piuttosto che sulle galline che non formano unità Questo fascino, dirò così, che esercita il gallo su di noi Contribuisce a dargli maggiore importanza di quella che merita nella riproduzione E disfatti nel rinnovamento del sangue che gli allevatori sogliono praticare di tanto in tanto Si cerca sempre un gallo di alta provenienza Mentre che si potrebbe rinsanguare di tanto in tanto anche con galline acquistate altrove Insomma nel rinsanguamento Si potrebbe far entrare in gioco una volta il gallo ed un'altra volta la gallina Di tal modo Si metterebbero a profitto alternativamente le prerogative sia del gallo che della gallina Si praticherebbe cioè il rinnovamento del sangue che potremmo chiamare rinsanguamento alternato Che un tal sistema sarebbe di efficacia superiore a quello del rinsanguamento col solo gallo Non è da mettersi in dubbio Poi c'è le proprietà trasmesse dal gallo ai suoi discendenti Sono diametralmente opposte a quelle che si verificano da parte delle galline E però non si può sconfessare che il rinsanguamento col solo gallo è d'altra parte preferibile al rinsanguamento alternato In quanto che se ne avvantaggia l'economia Un solo maschio potendo bastare a molte femmine D. Trasmissione delle qualità dei singoli genitori sulla prole Da quanto ho sovraccennato Tre sono gli obiettivi dell'incrocio nell'arte dell'allevamento E l'incrocio a scopo di rinsanguamento è assolutamente il più importante Poi c'è lo stesso, come andrò a dimostrare È quello che combatte i funesti effetti delle nozze consanguinee Per ben comprendere l'importanza del rinsanguamento nelle specie dell'avicoltura Occorre innanzitutto accennare all'influenza delle trasmissioni dei singoli genitori sulla loro prole La pratica, che è la maestra delle genti Ci addita quanto segue su questo soggetto Rispetto alla pennatura Al colore degli occhi Del becco e delle zampe Predominano negli allievi di tutte le specie avicole Evidentemente i caratteri del maschio Il colore delle guance D'ogli orecchioni Della cresta e dei Bargigli negli allievi del pollo del fagiano e del tacchino derivano a preferenza anche dal maschio Pare invece assodato che in merito al volume e dalle forme La madre eserciti maggiore influenza del padre sugli allievi Non possedgo un numeroso corredo di esempi per illustrare questa asserzione Però sono al caso di citare un solo fatto che mi sembra abbastanza convincente Anni orsono mi feci venire da Autun, Francia Una splendida coppia di romani neri Il maschio Con mio rincrescimento Era però notevolmente più piccolo della femmina e meno intensamente colorato Aveva pure delle penne bianche alle cosce La femmina era sviluppata eccessivamente ed un nero lucente Da questa coppia ebbi un numero infinito d'allievi tutti più grossi del padre e molti col bianco alle cosce Mentre che pochi riuscirono di mantello nero lucente come la madre La perre de Ruocita ha anche esempi dal complesso dei quali Egli crede di poter dedurre che la gallina eserciti una influenza molto più marcata che quella del gallo sulla statura della sua progenie Similmente la pensa il celebre allevatore de Fuoco Che così si esprime su questo argomento Senza alcuna esitazione Noi affermiamo che il gallo fornisce il colore e la somiglianza più spiccata col tipo cui si vuole arrivare Per anni alle vai sempre con passione soggetti Langshean e per chi è familiare con questa splendida razza Ben sa con quanta frequenza si manifestino riflessi metallici violetti invece che verdi negli allievi Dato si fatto inconveniente occorre riformare assolutamente i galli riproduttori che hanno Si ha pure minimamente questo difetto Certamente e non di rado si resta un po' perplessi nell'adottare questa draconiana decisione Già che quasi sempre si sacrificano i più grossi i più splendidi galli D'altronde se non si ha questo coraggio Gli allievi a riflessi violetti saranno in soprannumero E, incrocio a scopo di miglioramento di razze Incrocio delle specie L'incrocio a scopo di miglioramento di una determinata razza Mediante l'intervento di una razza migliorante è anche molto applicato in avicoltura E lo stesso offre il vantaggio di eliminare improvvisamente i difetti della razza da migliorare Rimpiazzandoli con le buone prerogative della razza migliorante E come ciò sia possibile Lo dimostrerò in appresso Se poi con l'incrocio di razze diverse Non si vuol semplicemente conseguire il miglioramento di una determinata razza Ma si vuole bensì fabbricarne una nuova Allora il compito dell'allevatore è forse più facile Ma non perciò non irto di grandi, immense difficoltà Il soggetto che meno interessa l'avicoltore è l'incrociamento delle specie Poi c'è gli ibridi Come è noto, sono per lo più sterili Ma anche questo argomento merita tutta la nostra speciale attenzione Cercherò di trattare i tre fini che si conseguono negli incrociamenti in avicoltura Con alquanta diffusione Poi c'è la loro conoscenza È assolutamente indispensabile all'allevatore Due incrocio a scopo di rinsanguamento F Funesti effetti delle nozze consanguinee E vantaggi delle nozze miste nelle specie avine Eccoci alle nozze consanguinee Soggetto molto scabroso In quanto che le opinioni degli allevatori sono in proposito diametralmente opposte Gli uni sostengono che le nozze consanguinee Prolongate per molto tempo riescono dannose Mentre che gli altri sono totalmente di avviso contrario Cercherò per quanto mi sarà possibile Di fare la causa dei primi e di combattere i secondi Gli accoppiamenti continuati fra parenti molto prossimi Provocano un accumulamento delle tendenze morbose Che sono ereditarie nelle famiglie Mentre che le nozze fra individui di diversa provenienza Riescono facilmente con tendenze morbose meno accumulate Il Jansson 1 invece così si esprime Che le nozze consanguinee siano causa di affezioni morbose Non è da mettersi in dubbio Però non vi è dubbio che le nozze miste non si trovino nello stesso caso E vi sono grandi probabilità che simili risultati Abbiano la loro causa nelle condizioni comuni Cioè fuori della consanguinità Nell'eredità Questo modo di vedere Per ciò che concerne le affezioni morbose derivanti dalle nozze consanguinee Concorda con le deduzioni del Darwin Ma per le nozze miste Il grande apostolo del principio dell'evoluzione così si esprime Molti hanno negato che dall'unione in qualche grado con sanguinea Scaturiscano degli effetti perniciosi Ma nessun allevatore pratico Chi o sappia Favorisce questa opinione E soprattutto nessuno di quelli che hanno allevato animali che si propagano rapidamente La consanguinità per se stessa non ha alcuna azione Ma opera solamente perché gli organismi consanguinei hanno in generale una simile costituzione E furono quasi sempre esposti a simili condizioni di vita Le dannose conseguenze causate dalla riproduzione consanguinea troppo ripetuta Appalesandosi assai gradatamente Non possono essere dimostrate con quella facilità come gli effetti utili che seguono l'incrociamento Nulla meno la opinione generale di tutti i più provetti su tale soggetto si è che ne risultino degli inconvenienti Più presto o più tardi A seconda degli animali E soprattutto in quelli che si moltiplicano con rapidità Un'idea falsa può bensì prevalere per superstizione Ma è però difficile il ritenere che tanti osservatori abili e sagaci Abbiano potuto ingannarsi in tal guisa a spese del loro danaro e della loro fatica Finalmente, se consideriamo che nel mondo organizzato Tutto sembra concorrere a rendere possibile l'unione accidentale di individui distinti Ne risulta, se non dimostrata, almeno assai probabile La esistenza ad una vasta legge naturale Che cioè l'incrociamento d'animali e di piante che non sono tra loro strettamente consanguinee È assai vantaggioso ed anche necessario E che la riproduzione consanguinea ripetuta per una troppo lunga serie di generazioni Può all'opposto avere conseguenze Più nocive Il cambiamento del suolo e del clima E per conseguenza anche delle abitudini Sono tutte cause di rinvigorimento della Costituzione E perciò da considerarsi come causa di rinsanguamento Molti grandi allevatori Dice il Darwin Sono talmente convinti di questo fatto Che sogliono tenere i loro branchi di pecore, di maiali, di cavalli, ecc Divisi per gruppi in diverse località Con si è fatto procedimento Essi praticano l'infusione di nuovo sangue Dando spesso un maschio d'una località alle femmine di un'altra Alle femmine esposte dunque a condizioni di vita alquanto diverse da quelle in cui trovavasi il maschio I risultati, come lo dimostrano i numerosi esempi citati da Darwin Ci insegnano che questa pratica rifugge dalle funeste conseguenze delle nozze consanguinee Il primo gruppo di langshean che mi feci venire dal defurico Lo specialista distintissimo di questa razza Si componeva d'un magnifico gallo e di due voluminose galline I primi e numerosi allievi che propagai nel mio allevamento da quel gruppo furono tutti Senza distinzione, di più forte taglia dei genitori Anzi nel secondo anno ebbe un gallo che raggiunse la statura fenomenale di 87, dico 87, centimetri L'avvocato L. Alliori di Casal Monferrato a cui c'è detti il gallo ebbe a dire che mai in vita sua aveva visto un gallo langshean così alto E di fatti nemmeno io Il considerevole aumento di taglia che si verificò negli allievi ottenuti dal gruppo defurico Lo si deve dedurre dal fatto che gli animali Col cambiamento radicale cui ebbero a sottostare nel regime di vita Nell'ambiente Nelle abitudini Eccetera Si rinvigorirono al punto come se avessero subito un totale rinsanguamento E perciò diedero soggetti robustissimi e molto sviluppati Il defurico, come del resto tutti i seguaci della scuola francese Non ci tiene tanto al rinnovamento poi c'è ad una lettera che gli diressi sull'argomento Chiedendogli il suo parere Così mi rispondeva Già i vuoi che i gii inetienz passare nove elementi du sangue Quando les volai les sont de bon sangue Bien portantes et que l'ipsilonen a une assez grande quantité Perché les memes pieres et emmeres ne fornisent pass les memes on font Le tronchest sans dutele meme comme adam est la suscite Tout les hams Mais comme les humains qui se divise entre non nombre incalchi alla ball Settecento tetes due de volail les cacane font Un grande nombre de femelles Questo celebre allevatore non crede dunque agli effetti funesti della consaguinità Ma d'altra parte li fa anche entrare in considerazione Poi c'è sente la necessità di un gran numero di volatili nei suoi allevamenti Onde potere poi produrre allievi non tutti derivati dalla stessa madre Certamente il defurico parla per esperienza personale Ed il suo modo di vedere viene giustificato dai suoi splendidi risultati d'allevamento Ma forse a lungo andare Gli effetti funesti delle unioni consanguinee potrebbero manifestarsi egualmente nei suoi prodotti E dico a lungo andare Perché il numero rilevante dei genitori negli allevamenti del defurico Merita tutta l'attenzione degli allevatori Ma non bisogna soprattutto dimenticare che ben pochi si trovano nella possibilità di Potere allevare 700 capi di pollame Quindi il fortunato defurico dovrà riconoscere che i piccoli allevatori devono ricorrere per forza al rinnovamento del sangue Se non vorrà essere in contraddizione col suo asserto In generale i francesi Al contrario degli inglesi Danno poco peso alle nozze consanguinee E di fatti uomini illuminati come il Quatrefages Il Sanson Il Laperre de Rue ed altri non lo condannano affatto Egli è però certo che nell'incrociamento fra i membri d'una stessa razza e di provenienza diversa E specialmente fra razze diverse Si nota sempre un accrescimento di statura nei prodotti derivati E non si può negare che ciò non sia effetto immediato delle nozze miste La mia esperienza personale mi ha talmente convinto dell'utilità delle nozze miste Che non posso fare a meno di citare i seguenti esempi Per molti anni allevai sempre soggetti o rosligne dell'anitra muschiata E che divennero tali perché continuamente cambiavo riproduttori Una volta il mio amico Mazzon A cui mandai un maschio di questa specie Ebbe a dire che per la prima volta in vita sua Gli era capitato fra le mani un soggetto così voluminoso Un proprietario di Marcianise Terra di lavoro Mi fece vedere un suo allevamento di Brahmapuotra Tutti soggetti di rara perfezione ma di statura molto ridotta Sorpreso di tale diminuzione visibile di taglia Mi fu detto che da molti anni non si era mai ricorso all'introduzione di riproduttori d'altra provenienza Così continuando Potrei sciorinare una strabocchevole raccolta di esempi presentatisi nel corso del mio allevamento Che tutti concorrerebbero a dimostrare la somma utilità delle nozze miste Il Baldamus 3 propende pel rinnovamento del sangue dei nostri volatili e nel frattempo asserisce che GL inglesi hanno sempre esagerata la questione delle nozze consanguinee e che oggi si sono alquanto ricreduti dalle loro esagerazioni Non dobbiamo dunque esagerare questo argomento Ma non volergli poi dare nessuna importanza È tutta altra cosa Prendiamo dunque la via di mezzo e cerchiamo di rinnovare Dopo qualche generazione Il sangue dei nostri volatili Certamente sarebbe più conveniente per l'allevatore di non introdurre nuovo sangue nei suoi pennuti E particolarmente quando questi sono di razza pura Introducendo nuovi riproduttori nel suo pollaio Egli rischia di guastare la sua buona razza Ma d'altronde il Darwin si spiega molto chiaramente su questo soggetto Uno stesso amatore Come è già noto Mantiene di rado per lungo tempo la superiorità dei suoi uccelli Ciò che è incontestabilmente dovuto al fatto che il suo tipo è dello stesso sangue È dunque indispensabile d'intromettere occasionalmente un uccello d'altra discendenza Per diversi anni alle vai senza successo Nei pressi di caserta Soggetti olandesi neri a ciuffo bianco Stante la difficoltà di procurarmi un buon riproduttore rinsanguatore Diedi sempre soggetti troppo consanguinei alle galline e fini per avere allievi totalmente rachitici Tanto che mi morivano tutti nell'adolescenza I colombi sopportano Meglio dei polli Le unioni consanguine e prolungate Ma non si potrà disconoscere che non sempre si accoppiano uccelli pel medesimo nido Poi c'è provvidenzialmente Non sempre nascono allievi appaiati nello stesso nido E spesso nasce un solo individuo Anche nei colombi domestici abbiamo razze più delicate di altre E ciò devesi alle strette unioni consanguinee Così molte razze di fantasia sono estremamente indebolite per la mancanza di rinnovamento del sangue E gli allevatori In vista di conservare i disegni originali di talune varietà Non poterono introdurre nuovo sangue Altrimenti sarebbero anche scomparsi i detti disegni Non è così dei colombi da carne in generale Questi sono estremamente robusti e prolifici E non c'è barba d'uomo che non vorrà vedere in queste razze Gli utili effetti dell'incrociamento con tipi di altra provenienza di altre razze Le razze migliorate dei colombi risentono In seguito a quanto ho ora sovraccennato Immensamente degli effetti nocivi inerenti alle unioni consanguinee E così è anche delle razze le più pregiate di galline Che divennero tali mediante unioni continuate fra parenti prossimi E però Darwin non crede che le costituzioni gracili di tali razze Debbano interamente addebitarsi alle unioni consanguinee Lo stesso Darwin si avvale del parere di Lord Sebrite Il creatore della famosa razza Bantam che porta il suo nome Perciò che riflette le fatali conseguenze delle nozze consanguinee F. Sebrite asserisce positivamente di aver fatto molte esperienze in proposito E di aver ottenuto dei polli con gambe lunghe Corpi piccoli e cattivi riproduttori Egli produsse i famosi Bantams che portano il suo nome con incrociamenti complessi Ed unioni consanguinee molto ristrette avvennero ampiamente in quegli animali Che sono oggi noti quali cattivi riproduttori Io vidi dei Bantams argentati provenienti direttamente dalla sua razza Che se erano fatti sterili come ibridi Poi c'è dalle numerose uova di due nidi Non sbucciò un solo pulcino 4 Yuit osservò che nei Bantams la sterilità del maschio Meno rare eccezioni È strettamente legata alla perdita di certi caratteri maschili secondari Ed aggiunge Io constatai Quale regola generale Che la menoma deviazione del carattere femminile Nel Bantams ebrite maschio ad esempio l'allungamento d'un Mezzo pollice di due rettrici primarie Determina una maggiore probabilità di aumento nella sua fecondità A chiunque abbia allevato dei Bantams ebrite Le prove raccolte dal Darwin sulla sterilità di questa bellissima razza Non riusciranno certamente nuove Per breve tempo alleva i soggetti idealmente perfetti di questa razza Che ebbi dalla grange di Autun I primi allievi erano abbastanza fecondi Poi c'è provenivano dal gruppo importato che stante il cambiamento di clima si era rinvigorito Ma in seguito gli allievi nati dai discendenti di questi si mostrarono spesso totalmente sterili Regalai una coppia di questi soggetti ad un mio amico Il colonnello Malevassi di Caserta Che non ebbe mai il piacere di poterli propagare Anzi egli mi asseriva di non aver mai visto saltare il gallo sulla gallina Darwin narra pure di una discendenza di polli da combattimento allevati da un noto allevatore Il Clark Questi vennero riprodotti tra loro a segno che erano giunti a perdere le loro disposizioni bellicose E si lasciavano uccidere sul sito senza opporre resistenza Nello stesso tempo erano diminuiti di taglia.g Elezione naturale ed artificiale Dal complesso di quanto ho sinora enunciato Risulta che l'allevatore ha il compito di dover scegliere i migliori animali per la riproduzione E fin c'è si tratta di accoppiare animali della stessa provenienza Le difficoltà non sono tanto pronunziate Diverranno tali Quando Nell'accoppiamento Gli animali saranno di origine diversa In tutti i modi, in ambedue i casi occorre applicare una elezione opportuna sui riproduttori Il termine elezione, adottato dal Darwin, corrisponde alla selezione degli allevatori e cioè alla cosiddetta sopravvivenza del più adatto La elezione si scinde in elezione naturale ed elezione artificiale o umana Quest'ultima è una deduzione della prima e viene così denominata perché praticata dall'uomo Certo non è dato a costui di alterare le leggi naturali Ma gli è dato bensì di sottoporre gli animali a condizioni speciali che la natura non offre Così in natura, gli animali dovranno lottare per la propria esistenza Sia difendendosi contro gli attacchi nemici Sia riparandosi dal freddo Sia procurandosi il cibo Eci, essi dovranno dunque sottostare alle leggi della elezione naturale In altri termini Nella lotta per l'esistenza La natura aiuterà gli individui da essa eletti E cioè quelli che, per condizioni speciali del loro organismo Della struttura Delle prerogative Non soccombono nella lotta per l'esistenza L'uomo circonda i suoi animali domestici di tutte le sue cure Fornendo loro il cibo L'alloggio Eccetera Ma contemporaneamente egli sceglierà per la riproduzione Sempre gli individui più adatti al suo uso E con questa pratica Seguirà il grande principio della elezione Anche sul suo simile Così nella società umana incivilita Gli eserciti sono composti di elementi provenienti da una elezione ragionata Poi c'è se scelgono i soli individui robusti e proporzionati E lo stesso è in generale delle Alte cariche dello Stato Che vengono coperte da uomini scelti dal popolo Per le loro doti di mente D'iniziativa Eccetera La sopravvivenza del più adatto Sta certamente in intima relazione con la ereditabilità E dalla variabilità negli individui Per cui Al grande principio della elezione Si connettono anche i principi Ovvero le leggi della ereditabilità e della variabilità Accennerò alle stesse Benché molto fugacemente Quando saremo giunti all'incrocio a scopo di miglioramento o di trasformazione delle razze Ove le dette leggi risultano con maggiore apparenza che non lo fanno nell'incrocio fra le stesse Razze Nell'incrocio fra razze diverse i caratteri ereditari Benché incostanti Offrono maggiori particolarità allo sguardo dell'osservatore Darwin insiste sul fatto che l'importanza del grande principio della elezione Riposa principalmente nel potere di prescegliere le differenze appena suscettibili Che non di meno si mostrano capaci ad essere trasmesse e che si lasciano accumulare Fin c'è il risultato si renda manifesto all'occhio di ogni osservatore L'influenza immediata della elezione naturale nelle specie dell'avicoltura non si fa sentire che parzialmente Così talune razze E sono ben poche non si possono adattare in un ambiente diverso del loro Le razze classiche francesi a ciuffo hanno prerogative veramente apprezzabili por l'economia domestica Ma trasportate fuori del loro ambiente diventano razze di lusso e degenerano Che dire poi della famosa Campine e della sua varietà conosciuta sotto il nome di Braekel A sentire i belgi Il signor Wandarsnigt alla testa la migliore fettatrice del mondo è la Campine Veramente, se non esistesse la nostra italiana Alla Campine spetterebbe il primo posto nella produzione delle uova Ma dato e concesso che quanto dice il signor Wandarsnigt fosse vero E ugualmente La Campine Si troverebbe rispetto alla italiana sempre in grado di inferiorità rilevante per la sua impossibile propagazione in altre contrade La Campine, per esempio, trasportata in Italia diventa mediocre fettatrice Non così la nostra italiana, che trasportata in qualsiasi parte del globo, resta Sempre la inarrivabile fettatrice italiana, anzi, quasi sempre, diventa maggiormente prolifica Il compito della elezione umana è alquanto ostacolato con le specie avicole che si incrociano liberamente Così i polli, le anitre, le oche, i tacchini, eccetera Vanno divisi a norma delle razze Ma non è così dei colombi che, salvo le solite eccezioni alla regola Si accoppiano fedelmente per tutta la vita È questa certamente la più potente ragione del perché le razze dei colombi sono numerosissime H Nozioni d'indole generale sulla fecondazione dei volatili Preponderanza di uno dei due sessi nell'accoppiamento fra polli, colombi, eccetera Correlazione di sviluppo Qui cade certamente a proposito di intrattenerci brevemente sulla fecondazione Wright sostiene che spesso le tracce della prima fecondazione in una gallina possono riscontrarsi in tutta la sua vita, particolarmente se il gallo ebbe caratteri preponderanti di trasmissione Se ciò non è sufficiente provato pure è da tenersi in considerazione Perciò l'allevatore farà bene di non unire mai le diverse razze che possiede nemmeno nella stagione invernale Epoca nella quale non si vuole propagare le razze Non sono rari i casi nell'uomo di figli del secondo letto che somigliano al primo marito della madre Darwin racconta il caso d'una cavalla inglese puro sangue che accoppiata con una zebra diede un allievo zebrato In seguito il salto sulla stessa cavalla venne compiuto da uno stallone della stessa razza Dunque un cavallo che non era zebrato Malgrado ciò nacque un allievo parzialmente zebrato Questo esempio è sufficiente per farci sospettare che un si fatto fenomeno è in relazione anche con l'osservazione Ora sovracitata che spesso le tracce della prima fecondazione in una gallina possono Riscontrarsi nei successivi accoppiamenti con galli differenti dal primo gallo fecondatore La durata della fecondazione della tacchina è nota Basta mettere a contatto con la tacchina una sola volta il maschio che tutte le uova della nidiata saranno perfettamente feconde Difatti, nei paesi dove questo volatile è molto coltivato, nessun contadino possiede il maschio riproduttore Tutti allevano soltanto le femmine che vengono portate alla monta una sola volta prima della deposizione delle uova d'una nidiata All'uopo vi sono castalde che posseggono i tacchini stalloni e precisamente in quel di Castelmorrone presso Caserta vige questo sistema Non si sa bene invece quante uova vengono fecondate in un solo accoppiamento del gallo con la gallina e lo stesso ne è dei fagiani e delle anatre Pare però che il gallo possa fecondare 5 uova in una sola volta, secondo altri anche 7 e fa in anco 12 Nei colombi, secondo il Prus 5 le due uova vengono, in generale, fecondate contemporaneamente Poi c'è se si tiene separata la femmina dal maschio poco prima della deposizione del primo uovo e sino alla deposizione del secondo Dopo la regolare incubazione di 19 giorni, nascono ugualmente i piccioncini Però se si ha cura di separare la femmina dal suo maschio poco prima della deposizione del primo uovo e darle poi un altro maschio subito dopo la deposizione di questo primo uovo Si verifica Talvolta che nascono i due piccioni di cui uno somiglia al primo e l'altro al secondo colombo Quest'ultima circostanza non andrebbe dunque a favore della costante fecondazione contemporanea delle due uova e perciò l'affermazione del Prus sarebbe incontraddittorio con quest'ultimo fatto Nell'accoppiamento dei nostri volatili bisogna tener d'occhio a molteplici circostanze Innanzitutto fa d'uopo accoppiare, possibilmente, sempre animali della stessa età Poicea parità di età si hanno ordinariamente individui di uguale sviluppo E se dico ordinariamente si è che talvolta Nelle razze asiatiche specialmente Il maschio si sviluppa molto più lentamente della femmina Un si fatto progetto potrà allora quando avrà raggiunto il suo pieno sviluppo Accoppiarsi con galline più Giovani di lui e che contemporaneamente avranno raggiunto lo stesso sviluppo In generale, sembra che gli allievi, una volta grandi, non sorpassino lo sviluppo che avevano i loro genitori nell'atto dell'accoppiamento Perciò i riproduttori vanno scelti fra G.L. individui che hanno raggiunto il loro massimo sviluppo Per i polli, i tacchini, le anatre Le oche, le faraone eccetera vale in generale l'età di due anni I colombi sono invece ottimi riproduttori ad un anno di età Ed in proposito ecco la durata del potere riproduttivo dei nostri volatili Gallo 4-6 anni Le razze Asiatiche appena sino a tre anni almeno nei più tardi casi Tacchino 8-10 Colombo 8-12 Anatra 8-10 Oca 12-15 Queste cifre sono approssimative Poi c'è, si intende a priori, che non sarebbe possibile di fissare regole assolute Mio fratello Luigi ebbe un gallo lanato che a 10 anni d'età era ancora un ottimo riproduttore Nelle razze nane si constata spesso una sensibile tendenza all'aumento di statura degli allievi A mio modo di vedere, sarebbe consigliabile, una volta ogni tanto, di adottare per la riproduzione soggetti molto giovani appunto per reprimere negli allievi la tendenza all'aumento di volume Certamente non converrà di mettere troppo spesso in pratica questo sistema, altrimenti si andrebbe incontro ad una vera degenerazione Un altro fattore di non dubbia importanza per ottenere allievi di forte sviluppo lo abbiamo nelle stagioni Così allievi schiusi nel febbraio e nel marzo verranno quasi sempre più grossi di altri schiusi nella stagione autunnale Facendo tesoro di questo fatto si può nell'allevamento dei bantams ricorrere alle schiuse tardive dell'autunno per conservare la piccola statura negli allievi Non potendo disporre di riproduttori aventi la medesima età Allora mi pare che converrebbe unire il maschio giovane con la femmina vecchia Poi c'è come già dissi l'influenza della madre sugli allievi si manifesta piuttosto nel volume Per le razze nane, bantams ove il coempito dell'allevatore si limita a ridurre la statura degli allievi Ad una gallina giovane e quanto più possibilmente piccola si darà un galletto più vecchio E che anche difettasse nella statura troppo sviluppata per la Piccolezza della razza Baldamus, seguendo i dettami del celebre gallinologo inglese Wright Cita 4 norme generali per stabilire la preponderanza che hanno i sessi risultanti Dall'accoppiamento dei polli di età diversa 1 Se si accoppia un gallo robusto con più di 3 galline predomineranno Perlomeno nelle prime schiuse Le galline Per le seguenti schiuse il risultato non è sicuro 2 Se si accoppia un gallo vecchio con più di 3 galline giovani Predominerà uno dei due sessi Raramente sorgeranno tutti e due in ugual numero 3 Se si accoppia un gallo vecchio con 5 o più galline giovani Predomineranno le galline I galletti nasceranno dalle prime uova deposte 4 L'accoppiamento fra individui giovani e vecchi dà risultati incerti Ma quanto più robusto è il gruppo e quanto meno sono le galline Tanti più galletti si hanno da aspettare Questi nascono sempre più abbondantemente dalle uova deposte nel principio della stagione Il baldamus E certo difficilmente si può citare autore degno di maggior fede Dice di aver ben studiato il sovracitato argomento e di essersi formato la convinzione Specialmente coi colombi I quali, in generale, producono sempre i due sessi Che anche nelle altre specie dell'avicoltura i due sessi nascono Più o meno, in numero uguale Il pruzzammette come regola quasi generale Che nella schiusa dei piccioni si hanno i due sessi quando l'uovo deposto pel primo contiene la femmina Se però quest'ultimo conterrà il maschio Allora il secondo uovo darà anche un maschio e si avranno due femmine quando il secondo uovo conterrà una femmina Riandando a quanto ho detto sinora Risultano ad evidenza le difficoltà che si presentano nella scelta degli individui destinati alla riproduzione Come poi c'è la sorte dei futuri allievi dipende essenzialmente da questi I riproduttori vanno scelti tra quelli che maggiormente si mostreranno conformi ai caratteri fisici e morali richiesti dalla loro razza Ma in particolar modo si avrà cura di badare alle principali qualità della razza Così, nelle galline italiane si eviteranno essenzialmente Per La riproduzione Le mediocri fettatrici Nei malesi Caratteristici per le loro gambe lunghe Si eviteranno i riproduttori che non mostreranno questo carattere Ho dovuto convincermi che talvolta basta guardare a pochi Magari ad un solo principale requisito dei riproduttori per avere allievi perfetti Così nei polli padovani a ciuffo si cerca essenzialmente l'ampiezza del ciuffo Ma in quanti padovani ho posseduto ho sempre potuto osservare che quelli a ciuffo ampio e sferico erano ordinariamente perfetti nel resto del corpo Mentre spesso vidi allievi a ciuffo difettoso essere imperfetti anche nel manto Nelle grandi razze asiatiche ho sempre Osservato che i migliori, i più voluminosi soggetti sono quelli a tarsi ben calzati Se fatta analogia va spiegata con la correlazione di sviluppo Argomento importantissimo studiato ampiamente dal Darwin Posso citare un fatto che non si scosta dalle argomentazioni ora sovraccennate Nelle reali tenute di Caserta, or sono diversi anni si allevava una splendida razza inglese di mucche bianche pezzate di rosso Per riproduttori si ritenevano soltanto i soggetti aventi una macchia bianca sulla fronte La cosiddetta stella, quelli che non erano stellati sulla fronte venivano inesorabilmente scartati Nei più celebri allevamenti è d'altronde sempre in valsa l'abitudine di badare a una o poche speciali caratteristiche E dall'osservanza di queste si sono mantenuto all'altezza della loro fama mondiale molte razze equine e bovine Gli esempi dei polli padovani e delle galline di razze asiatiche che ho citati ci insegnano Che anche nei nostri volatili basta tener conto di una o poche parti del corpo per raggiungere Grazie alla correlazione di sviluppo i migliori risultati 3 Incrocio a scopo di miglioramento o di trasformazione delle razze I, la smania di produrre nuove razze è da biasimare, ma sono da incoraggiare gli incroci laddove necessitano Eccoci all'incrocio delle razze della avicoltura, altro argomento pure importantissimo, ma che spesso viene travisato da qualche allevatore principiante e dagli ingenui, costoro, senza possedere la più che minima idea di allevamento, vedono, nell'incrocio delle razze, l'araba fenice, la realizzazione dei loro sogni Gli americani emergono particolarmente in questo ramo da avicoltura e ne si può negare che non ci abbiano dato, quasi improvvisamente, delle splendide nuove razze E però la smania, l'avidità del lucro, va sempre tanto oltre da darci sedicenti razze più o meno impossibili e che naturalmente spariscono al loro nascere, ne informino i diversi giornali da avicoltura Veramente non si comprende quale sia lo scopo che si raggiunge dotando l'avicoltura continuamente di nuove razze Dal momento che ne abbiamo già un numero esorbitante, così fra i polli abbiamo razze utilissime all'economia domestica e che potranno nell'avvenire riuscire di maggiore rendito La nostra attenzione dovrà dunque concentrarsi su queste utilissime razze, in vista di conservare non soltanto le loro ottime prerogative, ma anche di migliorarle Molti ingenui si sono affaticati inutilmente per conseguire la formazione d'un pollo noè, che alla prerogativa d'una abbondante deposizione d'uova accoppiasse quella d'una abbondante produzione di carne Un tale pollo, nello stretto senso della parola, non esiste Nella nostra gallina italiana abbiamo la migliore fettatrice che si conosca, però non la migliore produttrice di carne Poi c'è molte razze la superano di gran lunga in questa prerogativa Emerge chiaro che un pollo avente ambedue le sovracitate proprietà portate al grado di perfezione Non esiste 6 L'incrocio delle razze, praticato laddove necessita, può essere anche fecondo di buoni risultati Vi sono infatti talune razze talmente degenerate che per migliorarle si dovrebbero rinsanguare con altre razze più robuste Così ad esempio ne è della già citata razza Bantams e Bright La stessa è talmente fiaccata dalle unioni consanguinee che il rinnovamento del sangue fra i membri della stessa razza Benché di diversa provenienza È spesso coronata da insuccesso Per rimediare a tanta iattura Bisognerebbe allora provocare l'unione con altra razza e cercare poi con elezione ben compresa Di non fare assorbire le caratteristiche delle razze incrocianti J. Leggi della creditabilità e della variabilità dei caratteri Già dissi che le leggi dell'ereditabilità e della variabilità dei caratteri risultano con maggiore evidenza all'occhio dell'osservatore nei prodotti d'incrocio derivanti da due o più razze Ed eccoci ora a sfiorare questo argomento 1. Tutti i caratteri sono ereditari negli animali Detti caratteri si appalesano con costante forza di trasmissione quando si accoppiano individui della stessa razza E con incostante forza di trasmissione Quando gli individui sono di razza diversa 2. Il simile produce il suo simile È questa una legge fondamentale dell'ereditabilità dei caratteri Ma la stessa non si effettua sempre Effettuandosi costantemente questa legge L'arte dell'allevamento non sarebbe irta di difficoltà Gli allevatori non avrebbero infine a lambicarsi il cervello per pronunziarsi pro o contro le unioni consanguine Ed il principio della selezione non avrebbe pratica esecuzione in avicoltura La superiorità o inferiorità di un dato animale Dice Darwin è precisamente una prova che esso ha leggermente deviato dal proprio tipo Tuttavia, come ha ragione fa notare a Calland La cosa più sorprendente non è che i caratteri siano ereditari Ma l'averne di quelli che non lo siano 7 La genealogia degli animali bovini ed equini Trae la sua origine dalla legge dell'ereditabilità Che il simile produce il suo simile E si formarono Come dice Darwin Perfino genealogie di galli da combattimento Appartenenti a stirpi rinomate dell'Inghilterra D'altronde una specie di genealogia la formano Senza volerlo Tutti gli allevatori quando offrono i loro prodotti per mezzo dei giornali speciali da vicoltura In simili circostanze l'allevatore dichiara sempre la provenienza dei suoi Volatili Specialmente se questi traggono la loro origine da stirpi rinomate Tre diverse cause concorrono a far sì che un animale spesso non produce il proprio tipo Talvolta sorgono Nonostante l'uniformità dei genitori Nuovi caratteri nella discendenza che possono essere accidentali Ma più frequentemente ereditari ed in tal caso derivanti dagli avoli Bisavoli Trisavoli ecc Ed allora abbiamo l'ereditabilità indiretta Atavistica o atavismo propriamente detto In altri termini la revisione dei caratteri Le razze pure hanno poca tendenza alla revisione Ma non ne è così delle razze incrociate Un mirabile caso di riversione di caratteri mi venne raccontato dal Mazzon Che dai suoi padovani giganti neri ottenne un magnifico gallo fulbo I padovani giganti traggono la loro origine da un gallo cocincinese nero e da galline polverara Ma è opportuno ricordare che il cocincinese nero venne appunto formato dalla varietà tipica amanto fulbo Ad un mio amico di Chieri regalai due bellissimi galli Y andate quasi neri che mi provenivano da una coppia extra di argentati che avevano sempre dati allievi pure argentati e di tutta perfezione Quando si incrociano due razze I caratteri degli allievi si fondono assieme Però possono anche avere preponderanza quelli di uno dei due genitori e magari quelli dei due genitori Così un gallo nero Accoppiato ad una gallina bianca Potrà dare degli allievi brizzolati ed anche grigi Fusione di caratteri Neri Preponderanza dei caratteri del maschio Bianchi Preponderanza dei caratteri della femmina Ho visto molti prodotti d'incrocio derivanti dalle razze Langshean e tutti sono perfettamente neri Ciò spiega la preponderanza dei caratteri della razza Langshean Il numero di generazioni occorrenti a ciò che è una razza incrociata una sola volta con un'altra possa considerarsi fissata È sempre un'incognita Quello che è assodato si è che i pericoli della riversione dipendono essenzialmente della preponderanza di trasmissione dei due genitori Dalla somma delle due differenze reali e dalle condizioni esterne a cui vennero assoggettati i prodotti dell'incrociamento Talvolta può succedere però che con un solo incrocio si hanno allievi che non presentano mai i pericoli di riversione Questo almeno secondo Boitard e Corby è che, come dice Darwin, assicurano questo strano fatto Dico strano perché quanto i suddetti asseriscono su questo soggetto non può avere la sanzione ufficiale degli allevatori Io perlomeno trovo che sia esagerato quanto segue Boitard e Corby è assicurano che incrociando un colombo gozzuto Ed un rand si ottiene un cavalier Che noi Abbiamo classificato fra i piccioni di razza pura Perché trasmette tutte le sue qualità ai discendenti Invece è più moderata la seguente citazione del Darwin L'editore del Poultry Cranical ottenne dall'incrociamento del gallo spagnuale o nero con una gallina malese Alcuni uccelli azzurrognoli Che rimasero fedeli nel colore di generazione in generazione I casi di riversione provenienti da incrociamenti fra uguali o differenti razze Differiscono però da quelli provenienti dalle specie pure Ivi, come nei colombi che tendono tutti a prendere i caratteri del torraiuolo I detti caratteri di riversione possono presentarsi dopo un numero infinito di generazioni Molte razze della policoltura E probabilmente anche tutte Derivano da ripetuti incroci E similmente ne è dei colombi Nell'incrocio delle razze si hanno allievi vigorosi e per lo più di statura superiore ai genitori I galli più grossi che vidi erano sempre prodotti d'incrocio E tutti sanno che i colombi da carne Spesso di razza indistinta E per ciò da considerarsi come prodotto d'incrocio Sono per lo appunto i più grossi della loro specie Le leggi della variabilità dei caratteri sono certo ancora più oscure di quelle riflettenti La ereditabilità Tutti gli animali allevati dall'uomo per molte generazioni E perciò sottoposti continuamente a condizioni di vita diversa dallo stato naturale Tendono a variare Allo stato naturale variano bensì anche tutti gli animali Ma gli individui della stessa specie Trovandosi nella quasi uniformità d'ambiente ed abitudini Variano molto meno degli animali domestici Vi sono animali selvatici che si addomesticano con tutta facilità Ed allora gli allievi che ne risultano Spesso in tre o quattro generazioni Sono totalmente diversi dai genitori Così ne è piede l'anatra selvatica Del tacchino d'America Delle faraone Eccetera Nei polli domestici varia molto la statura La forma ed il portamento del corpo La livrea Il colorito della pelle La lunghezza e la forma del becco Le remiganti e le timoniere Varia altresì la voce e variano finalmente i caratteri morali Si riscontrano differenze spiccate anche nelle uova Sia nella forma che nel colore E sono molto caratteristiche le differenze osteologiche Queste ultime non interessano l'avicoltore Poi c'è nella selezione e gli fa entrare in considerazione solamente le parti esterne dei suoi volatili Ma per correlazione variano anche le parti interne degli animali e specialmente le ossa L'esempio di variazione delle ossa per correlazione di sviluppo esterno che maggiormente risalta agli occhi di tutti Lo abbiamo nella razza padovana che è caratteristica per l'immenso ciuffo che porta sul capo Il ciuffo nasce sopra una protuberanza ossea del cranio che è contemporaneamente perforato in molte parti Darwin spiega la conformazione anormale del cranio della razza padovana Come conseguenza della selezione umana rivolta all'ingrandimento continuo del ciuffo Il ciuffo di penne era dapprima probabilmente piccolo Ed aumentò per effetto d'una elezione continua E riposava allora sopra una massa carnosa o fibrosa Finalmente aumentando di continuo Il cranio è divenuto sempre più sporgente fino ad acquistare la sua straordinaria conformazione attuale In correlazione con questa protuberanza del cranio Si modificano le forme e le connessioni reciproche delle ossa intermascellari e nasali La forma delle narici, la larghezza dei frontali, la configurazione interna, il cranio e l'intera forma del cervello La sportomania, della razza padovana a gran ciuffo, ne ha fatto una vittima Poi c'è a furia di selezionare sempre in un senso, cioè nell'aumento del ciuffo, ha ridotto questa razza molto delicata L'ampiezza del ciuffo, la massima ampiezza di questo ornamento richiede il codice Quindi gli allevatori selezionano in questo senso i loro prodotti e portano alle mostre dei generali addirittura Non sembrerà vero, eppure l'ampiezza del ciuffo ha influito a rendere questa razza molto delicata Le aperture delle cavità nasali nella padovana a ciuffo, sono quasi il doppio di grandezza di quelle razze senza ciuffo E contemporaneamente manca la pellicola a cornea che nelle razze senza ciuffo copre le narici È noto che la respirazione si compie attraverso le narici, ma nei polli affetti da catarro nasale Le flusso del naso, indurendosi nelle pareti dei fori nasali, finisce per ostruirli Ed allora l'animale respirerà male ed aprirà il becco per facilitare la respirazione L'allevatore avrà così il modo di capire che l'animale può essere affetto da pipita, corizza contagiosa, catarro bronchiale, ecc E potrà evitare l'aggravarsi del male, ma nella padovana l'ostruzione delle cavità nasali non si Verifica molto facilmente, stante l'ampiezza delle narici, e ne consegue che il pollo, anche ammalato, non ne darà contezza Negli organi respiratori dei polli ciuffati, stante la normalità delle aperture nasali Le sostanze sospese nell'aria vengono maltrattenute e perciò introdotte in eccesso ai polmoni Per correlazione di sviluppo, la protuberanza ossea ove risiede il ciuffo, quanto più grande sarà, tanto più ampie narici richiederà Quindi emerge per conseguenza che il ciuffo straordinariamente sviluppato per continua elezione artificiale, ha finito per darci animali soggetti a mille malanni A misura che l'elezione svilupperà l'ampiezza del ciuffo, le vie nasali diventeranno sempre più anormali Ma con l'ampiezza del ciuffo si altera anche l'organo della vista Talvolta si vedono soggetti il cui ciuffo è tanto enorme che le penne anteriori toccano ed offendono l'occhio In tal caso è umano di tagliarle, tanto più che l'animale non può affatto vedere intorno a esse Queste giuste osservazioni, che a suo tempo pubblicai nell'allevatore di Milano Suscitavano il malcontento di qualche allevatore padovano troppo padovano Così l'amico Mazzon credette di infliggermi la censura per l'esopadovanismo Ma d'altronde l'eloquenza dei fatti è lì a dimostrare che la padovana a ciuffo ha appunto tutte le pecche che le si attribuiscono Indubbiamente è una splendida e superba razza ornamentale Ma non perciò immune dai gravi difetti che le ho Ha ragione Attribuiti La correlazione di sviluppo, tanto chiaramente illustrata dal Darwin Ha positivamente reso anormale il capo di questo pollo ciuffato Dal momento che si è voluto ottenere sempre più grande il ciuffo Mi sono un po' dilungato sulla conformazione particolare del cranio dei padovani Per dimostrare che la selezione applicata continuamente ad una caratteristica d'un volatile ci porta a risultati meravigliosi Il ciuffo, l'attrattiva principale della razza padovana Venne continuamente selezionato e perciò il suo volume aumentò tutti gli anni E continuerà sempre a svilupparsi Fin c'è sopraggiungeranno tali anormalità per correlazione di sviluppo che la selezione dovrà manifestarsi nel senso Opposto, cioè nella diminuzione del ciuffo Senza di che la razza finirebbe per scomparire Ecco dunque un altro caso che milita a favore dell'utilità dell'incrociamento delle razze avicole Nel caso che ci intrattiene La diminuzione del ciuffo E per conseguenza l'arresto dello sviluppo mostruoso delle aperture nasali e del cranio Non si potrebbero meglio ottenere immediatamente Che incrociando la razza con altra meno ciuffata Come variano i polli variano anche i colombi Anzi le differenze osteologiche si manifestano più abbondantemente che nei primi Non mi fermo su questo soggetto che è troppo vasto e non confacente ai limiti di questo lavoro Esclusivamente compilato per illuminare il pratico allevatore Le altre specie dell'avicoltura variano molto meno dei polli e dei colombi Anzi ve ne sono di quelle L'oca per esempio che non hanno variato affatto Le cause che determinano la variabilità dei nostri volatili domestici Devonsi ricercare essenzialmente nella nutrizione abbondante Forse anche nel clima più favorevole di quello naturale alla specie Anche l'incrociamento causa la variabilità degli esseri organizzati Anzi molti autori attribuiscono solamente ad esso tutte le cause della variabilità Ma non vi sarà forse nessun allevatore pratico che potrà accettare si fatta credenza Finalmente dirò che la selezione è forse una delle più potenti cause che concorrono alla variabilità dei nostri volatili E credo di averlo sufficientemente esposto con gli esempi ora citati sulla razza padovana L'uso aumentato ed il non uso continuato causano la variabilità delle parti Così, per esempio nei nostri polli le ali furono poco adoperate a cominciare della prima epoca della domesticamento E perciò attualmente sono alquanto ridotte Nella cochin cinese per esempio le ali sono talmente ridotte che i soggetti di questa razza Non sanno appollaiarsi negli angoli più elevati del pollaio Per questi aristocratici del pollaio bisogna mettere i posatoi a pochi centimetri dalla terra Se si vuole che questi polli non abbiano a dormire per terra La nostra gallina italiana invece si appollaia quanto più in alto può E ciò deve si all'uso più frequente che fa delle sue ali Già, che, dato il suo carattere vagabondo Niente affatto sedentario come la cochin cinese Essa svolazza per ogni dove per andare in cerca del suo nutrimento Così va sul fienile, al di sopra delle siepi e salta i più larghi fossati Lo stesso si può dire del piccione messaggero di fronte a quello da carne detto altrimenti mondano Vi sono dei colombi mondani talmente pesanti che non volano affatto Ed allora i loro nidi occorre che siano per terra Una varietà di mondani, ora assolutamente o quasi irreperibile Il piccione d'ascoli, era allevato in quel di Nola specialmente In quasi tutte le famiglie nelle cucine E non c'era caso che uno di questi colombi si sollevasse una sola volta dal suolo La razza del pollo combattente Allevata per lo passato a scopo esclusivo di combattimento Possiede, stante l'uso continuato che ne ebbe a fare Becco accuminato molto più robusto che in qualsiasi altra razza E tarsi fortemente speronati di straordinaria robustezza Un gallo combattente preso in mano oppone una resistenza e colle ali e coitarsi a svincolarsi Che non la riscontriamo in nessun altro pollo anche di razza più voluminosa 4. Incrociamento delle specie K. Vantaggi e svantaggi in questo genere di incrociamento Nell'incrociamento delle razze avine si guadagna Come ebbe già a dire Molto nella taglia, nella robustezza e nella fecondità E similmente ne è dell'incrociamento fra due specie diverse in merito alla taglia e dalla robustezza Ma non però nella fecondità Di due specie diverse Gli ibridi Riescono sempre sterili Forse l'aumento di statura sta in relazione con l'inazione del sistema riproduttivo Il vigore che vi manca si riversa a favore dello sviluppo Ma Darwin dice inaccettabile questo principio Poi c'è certe piante ibride vengono stimolate alla fertilità Incrociandole con specie distinte 8 comunque sia L'incrociamento fra due specie diverse in taluni allevamenti Nell'equino specialmente Ha importanza capitale Mentre che in avicoltura è poco o nulla praticato E se qui si hanno tal fiata degli Ibridi ciò devesi unicamente al mero caso Io sono convinto che pur tuttavia un allevamento speciale Rivolto esclusivamente alla produzione di ibridi Farebbe in taluni casi il tornaconto degli allevatori Vi sono alcune specie dell'avicoltura Che si incrociano con tutta facilità Fra di loro dando ibridi molto commerciabili Dalle carni estremamente squisite Perché dunque non rivolgere la nostra attenzione Su questi prodotti che facilmente si potrebbero sfruttare Sui mercati dei grandi centri ove Per le grandi mense Per gli alberghi di lusso I fagiani Le pernici Le faraone vengono profumatamente pagati Incroci razionali Aventi Uno scopo pratico Non fanno difetto in avicoltura Così non sono degni di menzione L'incrocio della natra muschiata colla comune Del pollo col fagiano Del pollo col la gallina di faraone Del pollo col tacchino L'incrocio della tortora col colombo A solo interesse scientifico L'incrocio della natra muschiata colla comune L'anatra muschiata detta comunemente muta Perché quasi priva di voce È caratterizzata dalle caruncole rose Che ricoprendole la testa Si estendono anche sul becco Queste Molto sviluppate nel maschio Sono rudimentali nella femmina Nelle parti caruncolate E sul portacoda specialmente Risiedono delle glandule Che secretano una sostanza Dall'odore di muschio Sostanza che comunica alle carni Un sapore che non si confà Al palato d'ognuno Ma volsi considerare che Negli animali giovani Che si vogliono macellare Appena hanno fatto la croce 9 Questo sapore non si avverte affatto In questo stadio di sviluppo Le sedi dell'odore muschioso Non essendo ancora perfettamente formate Le glandule odorose non sono nemmeno spuntate Del resto basta recidere il collo Ed il portacoda Appena si è macellato l'animale O Come taluni praticano Ghigliottinare l'animale vivo Per eliminare quasi completamente Il sapore del muschio Comunque sia L'allevamento di questo splendido prodotto È molto esteso In talone regioni d'Italia Come ad esempio nei pressi di Capua Non vi è cortile rustico Ove non comparisca la natra muschiata In numero preponderante Sulla natra comune Ciò prova che le carni del nostro volatile Trovano facile smercio sui mercati E che dunque non sono poi da disprezzare Come taluni vorrebbero affermare Egli è bensì vero che questa preferenza Nasce da due cause essenziali E cioè nella maggiore grossezza Della natra muschiata sulla comune Essendo la prima quasi di doppio volume Della seconda e di più nelle facilitazioni Dell'allevamento La natra muschiata cresce benissimo Come l'oca Anche senza la grande vasca d'immersione Non così la natra comune Nei cortili rustici Ove difetta totalmente l'acqua corrente La natra muschiata Purché abbia a sua disposizione Un recipiente qualsiasi d'acqua grande Abbastanza per tuffarvi il collo Non domanda altro Il maschio della specie muschiata Si accoppia con tutta facilità Con la femmina della specie comune Dando ibridi di carne squisitissima Nei pressi di capo A questi prodotti sono molto apprezzati E si pagano a prezzi più elevati Anche il maschio della specie comune Si accoppia facilmente Con la femmina della muschiata Ma gli allievi sono inferiori ai primi Dal suo riferito emerge Che veramente varrebbe la pena Di coltivare questa produzione Ibrida pel mercato Ove si porterebbero dei prodotti Assolutamente superiori Per la bontà delle carni Alle specie madri Non ho parole sufficienti Per richiamare l'attenzione Degli allevatori su questo fatto Che messo razionalmente in pratica Sarebbe indubbiamente Fonte di lucroso cespite Se fatti prodotti Si incontrano alquanto spesso Ma sono dovuti quasi sempre al caso E non alla fermata intenzione D'un allevamento specializzato allo scopo Io andrei più oltre Ed incrocerei le grosse razze Della comune La Ruan La Lisburi La Pechino La Padovana Ed allora il risultato Sarebbe sbalorditivo I prodotti che vidi sinora Derivano tutti indistintamente Dalla piccolissima anatra comune E se erano splendidi questi Figuriamoci come dovrebbero essere Quelli derivati dalle razze classiche I metici Accoppiati fra di loro Non si producono Ma sono suscettibili di propagarsi Se si uniscono con una delle specie madri D'altronde questo fatto Non interessa l'industriale Che deve produrre i metici Per il consumo M Incrocio del pollo col fagiano È degno di menzione L'incrociamento del pollo col fagiano Si hanno soggetti assolutamente rustici E di carne squisita Questi ibridi Retro incrociati con le specie madri Possono talvolta riuscire fecondi Non conosco per esperienza personale Sì fatti prodotti Ma certamente saranno convenientissimi Per le loro qualità economiche A quanto ne dice il signor Rinchi Questa produzione di polli fagiani Dovrebbe richiamare l'attenzione Di tutti gli allevatori Già che essi porterebbero sul mercato Soggetti squisiti quanto un fagiano Che all'allevatore non costerebbero Più dei polli comuni Mentre che verrebbero venduti A prezzo di fagiano Qualche allevatore in Inghilterra Ha tentato con successo Quest'industria Io credo che il fagiano argentato Sarebbe più di qualsiasi altra specie Indicato per l'incrocio Con la nostra gallina comune Mio fratello Luigi per diversi anni Tenne in un popoloso pollaio Un fagiano argentato Che continuamente montava le galline Senza temere l'ira dei galli N Incrocio del pollo Con la gallina di Faraone Il capo stazione signor Cecchi Mio buon amico Mi racconta che a Paderno d'Adda In provincia di Como Un tedesco suo amico Da molti anni alleva Alla rinfusa in un vasto pollaio Polli e Faraone Ebbene tutti gli anni Nascono dalle schiuse Molti ibridi Che si allevavano con tutta facilità Come i pulcini del pollo rustico Il signor Cecchi Che talvolta ha provato quelle carni Le trova deliziose Delicate e profumate Se consideriamo che in generale La Faraona è sempre allevata In mezzo ai polli Il fatto consultato dal signor Cecchi Non è comune Anzi direi unico Bisogna dire che condizioni speciali Dovote all'ambiente Contribuiscono alla facile produzione Di quegli ibridi Dato l'amore per la pollicoltura Che nutre il signor Cecchi E data pure la sua intelligenza Io gli consiglierei di bene occuparsi Dell'argomento Il compito gli sarebbe facilitato Egli che è sul posto Dal materiale abbondante Che ha a sua disposizione Il signor Cecchi Dovrebbe far tentare Si fatta produzione In altri pollai Di paderno d'alba Dovrebbe pure indagare Se a preferenza Sono i galli Che montano le Faraone O se i maschi delle Faraone Le galline Quindi secondo i risultati Formare dei gruppi ad hoc Per la produzione Il soggetto merita Tutta la nostra attenzione E possa questo mio fervorino In pro di si fatta produzione In vogliare il signor Cecchi A mettersi al lavoro Che mi son permesso di additargli Sinora nessun allevatore Che mi sappia mai Ha parlato di simili ibridi Ed io stesso Che spesso allevai Faraone alla rinfusa Con polli Non ebbi mai a constatare Sfoghi d'amore Fra le due specie Ho dichiarato unici Gli esempi di ibridismo Asseritimi dal signor Cecchi Però Prima di lui Nel 1889 L'illustre professore Azzanelli Della scuola zootecnica Di Reggio Emilia Così narrava un caso probabile Di ibridismo Venuto a sua conoscenza In un cortile Mezzadrile Della nobile Casa Levi Di cui in villa Massenzatico Si allevano promiscuamente Come spesso succede Delle galline comuni Gallus domesticus Originariamente Gallus ben chiva E delle galline faraone Nomi da mele agris Le massaie misero quest'anno Al covo delle ova di galline Da cui nacquero pulcini Che presentano evidentemente Alcuni dei caratteri esteriori Delle faraone Hanno cioè taluni La penna col colorito E la screziatura Dei faraoni Con le zampe nero plumbe O alcune hanno il becco nero Largo alla base Come i faraoni Altri piccole caruncole E chiocciano in modo Alquanto diverso Dai polli comuni Hanno quattro dita Le mediane riunite Da una membrana Quasi rudimentale Come le faraone La massaia asserisce D'aver visto più volte Il gallo faraone Calcare le galline comuni Il caso è abbastanza strano E però degno D'essere osservato E notato L'ON Commendatore Ulderico Levi Ha voluto donare Alla scuola zootecnica Di reggio Tre di questi supposti ibridi Affinché si facciano Intorno ai medesimile Opportune osservazioni E se ne tenti La produzione Il chiaro professore Alessandro Ghigi Dell'Università Bolognese Nel 1903 Descrisse Nell'archivio zoologico Italiano Due ibridi Di gallo domestico E galline di faraone Uno dei quali Ottenuto dal signor Federico Guidi Della società colombofila Felsinea O Incrocio del pollo col tacchino Eccoci a una vera novità del genere Nessuno di chi mi legge Avrà scorto un siffatto meticio E Posso aggiungere di rimando Nemmeno io Pur tuttavia Le conseguenze di questa unione mostruosa Le abbiamo fissate In una strana razza di polli Che è ben fissata Alludo alla razza Collo nudo di Transilvania Questa brutta razza Si distingue Come indica il suo nome Dal collo sprovvisto Di piume O ricoperto Invece di una pelle Agrinzita o rossa Come il sedere Della bertuccia La testa è anche nuda Salvo sul vertice Da dove ricadono Indietro delle piume Molto fini Di modo che l'animale Appare ciuffato Ma l'assenza totale Di qualsiasi accenno Ad una protuberanza Emisferica Nella parte anteriore Del cranio Ove spunta Lo pseudo ciuffo È lì a dimostrarci Che non abbiamo a fare Con una razza ciuffata Da quanto ho detto Emerge chiaro Che le piume Che rivestono Il vertice Della collo nudo E che ricadono Indietro a guisa Di capelli Danno l'idea Ad un ciuffo Perché sono isolate Dalla nudità completa Della testa O del collo Ma che in realtà Non rappresentano Affatto un ciuffo La prima volta Che comparve Al pubblico Questa razza Fu alla mostra Internazionale Di Vienna Del 1875 E spostavi Dalla signora Seremli Di Elisabeth Stadit In Transilvania I campioni Esposti erano Di provenienza Turca E vennero Chiamati Turchi Schianer Polli Turchi Seremley Aner Polli Seremli Siebenburgers Perbar Cucoli Di Transilvania Un noto Scrittore In materia Avaina Il signor Marquard Racconta Che la giuria Della mostra Viennese Del 1875 Era molto Imbarazzata Nel dover Giudicare La nuova E sconosciuta Razza Gli uni Pensavano Che i campioni Esposti Dalla signora Seremli Rappresentavano Delle mostruosità Gli altri Ricorrevano Con la loro Immaginazione Ad una Mistificazione Provocata Dallo strappamento Delle penne Del collo Ma grazie All'intervento Di qualche Ungherese A cui La razza Era già Nota Nel proprio Paese Vennero Tolti Dall'imbarazzo I poveri Giurati Pur tuttavia È accertato Che prima Del 1875 Epoca Nella quale La signora Seremli Fece Conoscere Questa Strana Gallina La razza A collo Nudo Era già Nota In alcune Contrade Della Transilvania E dell'Ungheria Ove Venne Sempre Designata Sotto La strana Denominazione Di Pulcatrack Gallo Tacchino Appunto Perché la si vuole Derivata Dall'unione Mostruosa Del tacchino Con la gallina Comune Di Transilvania La voluta La voluta origine Di questo pollo Dal tacchino È basata Sulla conformazione Del collo Molto analoga A quella Del tacchino Questa Azzardata Opinione Venne a suo Tempo Sostenuta Con molto Calore Dal D. Arclusch Di Skarsburg In Transilvania In un Suo Lavoro Sulla Polleria Di Transilvania Pubblicato Nella Gazzetta Avicola Di Nei cortili Di campagna Dove si tengono Diverse specie Di volatili Alla rinfusa Non si bada Troppo Alla proporzione Fra i rappresentanti Dei due sessi Così si hanno Sopra 15 E 20 Tacchine Soltanto Uno O massimo Due Maschi Mentre che Per lo contrario Per galline Si tengono Molti Galli In questi Cortili Vennero Talvolta Osservati Dei polli Pelati Più o Meno Alla testa E dal collo Ma nessuno Vi fece mai Caso Si pensava Che il volatile O era così Mal ridotto In seguito O a effetto Senile Ed allora Lo si vendeva Al mercato Ma se invece Era giovane Si andava All'idea Che trovavasi In piena Muta Ed in tal Caso Si pensava Che nell'inverno Avrebbe rimesse Le penne Perdute Gli israeliti Della Transilvania E dell'Ungheria Sono forti Incettatori Di pollame Vecchio Ed ingrassato Così è naturale Che quasi tutti Quei polli Pelati Capitavano Nelle loro mani Costoro Impararono Ad apprezzare Le preziose Qualità Economiche Di questi polli Tanto brutti In apparenza Ma tanto più Belli Nel tegame Da veri Sfruttatori Di tutto Ciò Che sa Di utile Quegli ebrei Non vennero Meno al precetto Fondamentale Della loro Razza Che suona Utilizzare Ciò che rende E perciò Adibirono Per la riproduzione Qualche campione Spennato Brutto Ributtante Ma utile Per qualche tempo Essi continuarono A godere Quei prodotti Fin c'è Sopra Un popolo Che potè Poi più Facilmente Per tradizione Trasmessa Dai primi Apprezzarne Le preziose Qualità Economiche Le investigazioni Praticate Sin qui Dal citato Di Arclus Gli fecero Conchiudere Che in diverse Località Della Transilvania Si trovano Polli I quali Derivano Con tutta Probabilità Dagli Antenati Dei moderni Collo Nudo Ma in Principio Gli stessi Non dovevano Però Avere Il collo Tanto Stranamente E regolarmente Nudo Come i Tipi Attuali Ma Bensì Vestito Soltanto Del fusto Delle penne E nudo Interamente Soltanto Alla gola E dal Principio Del petto Ciò Venne Sempre Confermato Da persone Dimoranti In quelle Contrade E che Ebbero Continuamente A meravigliarsi Di osservare Con alquanta Frequenza Siffatti Polli Spennati E abbastanza Diversi Nelle Forme Dagli Altri Confratelli Del Pollaio È naturale Che la pelle Del collo Essendo Scoperta Doveva Risentire Dell'influenza Dell'aria E perciò Indurirsi Estante La maggiore Affluenza Del sangue Color Rossi Di rosso Come nel Tacchino Così Si formarono Indubbiamente Gli attuali Tipi Della Razza Collo Nudo Di Transilvania Per maggiormente Confortare La sua Elaborata Ipotesi Il Dottor Clus Esamina La razza Come è Attualmente Nel suo Aspetto Generale E viene Alla Seguente Conclusione Pratica Il Gallo Adulto Della Razza Collo Nudo Alla Grandezza D'una Piccola Tacchina Comune Le Gambe Alte Robuste Lisce Leggermente Impiumate Ed Il Corpo Allungato Se ci Figuriamo Tolta La Cresta Dal Capo Allora Ci si Presenta Un Animale Che Nell'assieme Ordinariamente Nella Metà Anteriore Del Corpo Assomiglia Fedelmente Ad Una Tacchina Il Corpo Allungato Viene Raramente Portato Ad Angolo Retto Col Collo Ma Forma Piuttosto Una Superficie Obliqua Della Quale Ne Differiscono Di Il Collo E La Coda Il Movimento Del Corpo Specialmente Del Collo E Delle Gambe Assomiglia Anche A Quello Della Tacchina E Particolarmente Negli Animali Non Ancora Perfettamente Adulti Molti Autori Descrivono Sommariamente Questa Razza E La Trattano Con Disprezzo Dichiarandola Inutile Veramente Non Stanno Così Le Cose La Collo Nudo Produce Ottima E Squisita Carne La Gallina È Distinta Ovaio La Gli Allievi Sono Di Rapido Sviluppo E Straordinariamente Rustici Questa Meravigliosa Razza È Meno Brutta Di Quanto Si Vuole Da Taluni Anzi La Particolarità Delle Sue Forme Impressiona Favorevolmente E Non Non Da Mettersi In Dubbio Che Finirà Per Affermarsi Completamente Attualmente Essa Non È Molto Diffusa Fuori Dall'Austria Ungheria Ma Volsi Anche Considerare Che È Ancora Una Razza Nuova È Il Tipo Moderno Perfezionato Dagli Ungheresi In Italia La Collo Nudo È Ancora Una Vera Rarità Uno Splendido Gruppo Figurò Alla Mostra Di Torino Del 1891 Nel Mentre Che Non Apparve Nessun Campione Alla Mostra Internazionale Di Roma Del 1903 Mazzon Mi Ricorda D'Aver Avuto Dei Polli Col Pennello Setoloso Al Petto Precisamente Come I Tacchini Anche Qui Vi Sarebbe Il Sospetto Di Tacchino Anzi Direi La Sicurezza Assoluta Peccato Che Un Fatto Così Saliente Sia Rimasto Confinato Soltanto Nell'allevamento Del Mazzon 10 P Incrocio Del Colombo Con La Tortora Il Compianto Professore Bonizi Nel Suo Aureo Libro Sui Colombi Tratta Per Propria Scienza Questo Soggetto Egli Ottenne Più Volte Ibridi Dalla Copiamento Del Colombo Maschio Con La Femmina Della Tortora Ma Non Gli Riuscì L'incrocio In senso Contrario Tortora Maschio Colombo Femmina Il Bonizine Bonizine Il Femmina Era Un Ostacolo Al Compimento Del Coito Malgrado Che Il Maschio Saltava Sulla Colomba Con Tutta La Buona Intenzione Co Incrocio Incrocio Della Faraona Col Pavone Un Caso Strabiliante D'incrocio Lo Dobbiamo All'unire Della Faraona Col Pavone E Qui È Il Professore Ghigi Sullo Dato Che L'ha Ottenuto Egli Ebbe Un Uovo Di Gallina Di Faraone Fecondato Dal Pavone E Secondo Lui Crediamo Bene Il Caso È Rarissimo E Per Quanto Gli Consta Esiste Solo Un Altro Esemplare Nella Collezione Del Museo Britannico Di Londra Note 1 La Perre De Rue Le Guide Illustre De Le 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 Leva Appunto Circa 700 Capi Di Razza Lang Cian Ogni Anno 3 E Baldamus Di E Federvi E Zucht 4 La Mancata Fertilità Così Il Darwin Mostra Che Gli Effetti Nocivi Della Consanguineità Sono Indipendenti Dall'accumulamento Delle Tendenze Morbose Comuni Ai Due Progenitori Ben Che Questo Accumulamento Sia Senza Dubbio Spesso Assai Nocivo 5 Prutz Illustre Mustert A Ben Book Sei La Per De Rue Nostro Venerato Maestro In Avicoltura Condanna La Mania Dei Fabbricanti Di Razze Conosco Degli Allevatori Che Sono Invasi Dalla Mania Di Erigersi Ariformatori Di Tutte Le Razze D'animali Domestici Conosciuti Mediante L'Incrociamento Punto Che Gli Amatori Ricchi Si Divertino A Creare Delle Nuove Razze Di Colombi O Tentino Di Fissarle Ciò Che Mi Sombra Più Difficile Senza Incoraggiarli In Questa Impresa In Cui Gli Insuccessi Formano La Regola Ed Piacere Ed Innocente Distrazione Ma Non Saprei Egalmente A Provare La Mania Di Incrociare Le Nostre Diverse Razze Di Polli Poi C'è Il Pollaio E Per Molto Persone Una Fonte Di Guadagni Che Esige D'essere Diretta Con Intelligenza Da Pratici Provetti E Non Da Maniaci Punto Sette In Quale Modo I Caratteri Di Ogni Qualità Si Trasmettono Di Generazione In Generazione Non È Ancora Decifrato Se Non È Il Darwin Tenta Di Spiegare I Fenomeni Dell'eredità Dei Caratteri Con La Sua Ipotesi Della Pangenesi E A Che Il Con La Sua Teoria Della Perigenesi Uscirei Dai Limiti Di Questo Lavoro Se Volessi Accennare Alle Due Sullodate Ipotesi Perciò L'allevatore Che Volesse Interessarsene Non Ha Che Ricorrere All'opera Del Darwin Variazione Degli Animali E Delle Piante Allo Stato Domestico E Anche Alla Teoria Dell'Evoluzione Di G Canestrini 8 Darwin Variazioni 1 La Sterilità Delle Specie Distinte All'orce Si Incrociano Per Quasi Tutti I Passaggi Graduati Dallo Zero Dove L'ovulo Non È Mai Fecondato Fino Alla Sterilità Completa Alla Conclusione Che Alcune Specie Sono Feconde Nell'incrociamento Noi Possiamo Sfuggire Solamente Col Ammettere Che Tutte Le Forme Che Sono Perfettamente Feconde Debbonsi Considerare Come Varietà 2 Il Grado Di Sterilità In Un Primo Incrociamento Fra Due Specie Non È Sempre Strettamente Parallelo A Quello Dei Loro Prodotti Ibridi Si Conoscono Molti Casi Di Specie Che Si Incrociano Facilmente Ma Danno Ibridi Affatto Sterili E Dal Contrario Delle Specie Che Non Si Incrociano Che Con Grande Difficoltà E Producono Non Di Meno Degli Ibridi Molto Fecondi Seguendo L'idea Che Le Specie Sono State Dotate Di Una Sterilità Reciproca Specialmente Destinata A Mantenerle Distinte Questo Fatto È Inesplicabile Tre Il Grado Di Sterilità Differisce Spesso Assai In Due Specie Reciprocamente Incrociate La Prima Potendo Facilmente Fecondare La Seconda Mentre Che Questa Resterà Incapace Malgrado Dei Tentativi Ripetuti Di Fecondare La Prima Anche Gli Ibridi Provenienti Dall'incrociamento Reciproco Fra Due Stesse Specie Possono Talvolta Differire Molto Per La Loro Fertilità Fatti Egualmente Incomprensibili Nel Supposto Che La Sterilità Sia Una Dote Speciale 4 Il Grado Di Sterilità Dei Primi Incrociamenti E Degli Ibridi È Fino Ad Un Certo Punto Legato All' Che Si Cerca Di Unire Poi C'è Specie Appartenenti A Generi Diversi Non Possono Che Raramente Incrociarsi E Mai Quelle Di Famiglie Differenti Però Questo Parallelismo È Lontano Dall'essere Completo Poi C'è Molte Specie Molto Vicine Non Possono Appaiarsi Oppure Con Grande Difficoltà Mentre Altre Molto Più Differenti Fra Loro Possono Essere Molto Facilmente Incrociate Cinque Gli ibridi Edimetici Ad eccezione Della fecondità Presentano La più grande Analogia Tra di loro Sotto tutti Gli altri Rapporti Per la loro Somiglianza Ai genitori Per la loro Tendenza Alla Riversione Per la loro Variabilità Ed in ciò Che per ripetuti Incrociamenti Vengono Assorbiti Dall'una O dall'altra Delle forme Genitrici Nove Fare La croce Termine Tecnico Adoperato Dagli Allevatori Che indica Uno stadio Di sviluppo Delle Anatre In generale E propriamente Quando le ali Piegate Sul dorso Si toccano Con le estremità 10 Il professore Gigi In un notevole Articolo Sul giornale Degli Allevatori Esclude Precisamente La possibilità D'un Siffatto Incrocio A tenore Di quanto Segue Per quanto Io Abbia Scartabellato Nelle più Accreditate E diffuse Bibliografie Ornitologiche Non sono Riuscito A trovare Alcuna Indicazione Sicura Di incrociamenti Fra Pollo E tacchino Perciò È riuscita Tanto Più Sbalorditiva Per me L'opinione Riportata Da Teodoro Pascali In una Teorica Dell'allevamento Degli animali Da cortile Che la razza Di polli Conosciuta Per collo Nudo Della Transilvania Discenda Da prodotti Che avevano Sangue Di tacchino Tale Ipotesi Non regge Alla più Superficiale Critica I caratteri Del pollo Di Transilvania Denoterebbero Che del Tacchino Pochissimo Vi sia Rimasto Un avicoltore Direbbe Per esempio Che vi sono 910 Di pollo E 110 Di tacchino Orbene È noto Che nei Fenomeni Intimi Della Fecondazione Pronucleo Maschile E pronucleo Femminile Recano In ciascuno La metà Del numero Di cromosomi Normale Alle cellule Germinali Di ciascun Genitore Ondè Che il nucleo Di segmentazione Risulta Composto Di elementi Paterni E di elementi Materni In eguale Misura Ed il prodotto Dovrà avere Tanto del padre Quanto della madre Se l'ibrido È fecondo Come nel caso Del fagiano Dorato E del Lady Amerst Incrociandolo Con uno Dei genitori Si potrà Aumentare Il numero Degli elementi Dell'una Specie Di fronte A quelli Dell'altra Indicando Indicando Con n Il numero Dei cromosomi Del fagiano Dorato E con m Il numero Di quelli Del fagiano Di Lady Amerst È evidente Che il numero Dei cromosomi Del nucleo Di segmentazione Appartenente All'uovo Fecondato Che produrrà L'incrocio Ed n Più m2 Il nucleo Di segmentazione Dell'uovo Dell'incrocio Fecondato Ancora dal padre Sarà poi rappresentato Dalla formula N Più m2 Più m2 Uguale N Più m4 Più m2 Donde si vede Come il numero Degli elementi Dell'una specie Possa crescere A spese Del numero Degli Elementi Dell'altra Ma nel caso Del tacchino E del pollo Saremmo certamente Di fronte Ad ibridi Infecondi Ondè Che la possibilità Della eliminazione Parziale Dei caratteri Di una specie Come sopra Abbiamo esposto Scompare Si obietterà Che non avendo Mai veduto Ibridi Di tacchino E di pollo I quali Debbono pur tuttavia Ritenersi possibili Essendo perfino Registrato Un ibrido Di pollo E di erace La mia asserzione Di infecondità È discutibile Esso però Ha solido Fondamento Nelle analogie Ma ciò Che riuscirà Forse più strano Per il lettore È l'apprendere Che un ibrido Di pollo E tacchino Avrebbe certamente Il collo Vestito di penne E non nudo L'esperienza Ha dimostrato Che negli ibridismi Tra forme Notevolmente Diverse Sui caratteri Paterni E materni Predominano I caratteri Atavici Vale a dire Quelli Degli antenati Comuni Alle due Specie Ondè Che nei gallinaci I primi caratteri A sparire Sono le appendici Carnose Le quali sono Di acquisto Recente Come ci viene Dimostrato Anche dallo Sviluppo E siccome Il collo Del tacchino È morfologicamente Nudo Ma provvisto Di penne Brevissime Con barbe In gran parte Atrofizzate Nell'ibrido Queste penne Combinandosi Con quelle Eccessivamente Allungate Del pollo Ritorneranno Normali Tali Cioè Da ricoprire L'intero Collo Dell'animale Nota Del Trascrittore Ortografia E punteggiatura Originali Sono state Mantenute Correggendo Senza Annotazione Minimi Errori Tipografici Copertina Creata Dal Trascrittore E posta Nel Pubblico Dominio Asterisco 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 End of The Project Gutenberg Ebook Importanza E risultati Degli Incrociamenti In Avicoltura Asterisco 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 Updated Editions Will Replace The Previous One The Old Editions Will Be Renamed Creating The Works From Printed Editions Not Protected By US Copyright Law Means That No One Owns A United States Copyright In In The United States Without Permission And Without Paying Copyright Royalties Special Rules Set For In The General Terms Of Use Part Of This License Apply To Copy And Distributing Project Gutenberg Symbolo Di Marchio Registrato Electronic Works To Protect The Project Gutenberg Symbolo Di Marchio Registrato Concept And Trademark Project Gutenberg Is A Registered Trademark And May Not Be Used If You Charge For An E-Book Except By Following The Terms Of The Trademark License Including Paying Royalties For Use Of The Project Gutenberg Trademark If You Do Not Charge Anything For Cap Is Of This Book Complying With The Trademark License Is Very Easy You May Use This Book For Nearly Any Purpose Such As Creation Of Derivative Works Reports Performances And Research Project Gutenberg E You Made To Practically Anything In The United States With Books Not Protected By US Copyright Law Redistribution Is Subject To The Trademark License Especially Commercial Redistribution Start Full License The Full Project Gutenberg License Please Add This Before You Distribute Or Use This Work To Protect The Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Mission Of Promoting The Free Distribution Of Electronic Works By Using Or Distributing This Work Or Any Other Work Associated In Any Way With The Frase Project Gutenberg You Agree To Comply With All The Terms Of The Full Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato License Available With This File Or Online www.gutenberg.org Barra License Section 1 General Terms Of Use And Redistributing Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Electronic Works 1. By Reading Or Using Any Part Of This Project Gutenberg Simbolo Di License 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 And Intellectual Property Trademark Barra Copyright Agreement If You Do Not Agree To Abide By All The Terms Of Disagrement You Must See Using And Return Or Destroy All Cap Sof Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Electronic Works In Your Possession If You Pay For Obtaining Copio For Access To Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Electronic Work And You Do Not Agree To Be Bound By The Terms Of Disagrement You May Obtain A Refund From The Person Orient To You Paid The Fias Set Forze In Paragraf 1. E 8 1. B Project Gutenberg Is Registered Trademark It May Only Be You Stono Associated In Anyway With An Electronic Work By People Agree To Be Bound By The Terms Of Disagrement The Rara Fue Things That You Can Do With Most Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Electronic Works Even Without Complying With The Full Terms Of Disagrement Si Paragraf 1. C 1. C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation Orp Gluff Tones A Compilation Copyright In The Collection Of Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Electronic Works Nearly Nearly All The Individual Works In The Collection Are In The Public Domain In The United States If An Individual Work Is Unprotected By Copyright Law In The United States And You Are Located In The United States We Do Not Claim A Right To Prevent You From Copying Distributing Performing Displaying Or Creating Derivative Works Based On The Work As Long As All References To Project Gutenberg Are Removed Of Course We Hope That You Will Support The Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Mission Of Promoting Free Access To Electronic Works By Freely Sharing Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Works In Compliance With The Terms Of Disagreement For Keeping The Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Name Associated With The Work You Can Easily Compline With The Terms Of Disagreement By Keeping This Work In The Same Format With It Attached Full Project Guttenberg Simbolo Di Marchio Registrato License When You Share It Without Charge With Haters 1. Di The Copyright Laws Of The Placid Where You Are Located Also Govern What You Can Do With This Work Copyright Laws In Most Countries Are In Constant State Of Change If You Are Outside The United States Check The Laws Your Country In Addition To The Terms Of Disagreement Before Downloading Copying Displaying Performing Distributing Or Creating Derivative Works Based On This Work Or Any Other Project Guttenberg Simbolo Di Marchio Registrato Work The Foundation Makes No Representations Concerning Copyright Status Of Any Work In Any Country Other Than The United States 1. E Unless You Have Removed All References To Project Guttenberg 1.1 The Following Sentence With Active Links To Oro Der Immediate Access To The Full Project Guttenberg Simbolo Di Marchio Registrato License Must Appear Permanently Whenever Any Copy Of Project Guttenberg Simbolo Di Marchio Registrato Work Anywhere Con Which The Phrase Project Guttenberg Appears Or Which The Phrase Project Guttenberg Is Associated Is Accessed Displayed Performed Viewed Capid Or Distributed This Book Is For The Use Of Anyone Anywhere In The United States And Most Other Part Of The World At In O Cost And We Almost No Restrictions What So Ever You Make Copy It Give It Away Or Reuse It Under The Terms Of The Project Guttenberg License Includi With This Book Online At www. Guttenberg .org If You Are Not Located In The United States You Will Have To Check The Laws Of The Country Where You Are Located Before Using This Ebook 1.2 If An Individual Project Guttenberg Simbolo Di Marchio Registrato Electronic Work Is Derived From Texts Not Protected By US Copyright Law Does Not Contain A Notice Indicating That It Is Posted With Permission Of The Copyright Holder The Work Can Be Cap And Distributed To Anyone In The United States Without Paying Any Fees Or Charges If You Are Redistributing Or Providing Access To Work With The Fraze Project Guttenberg Associated With Or Appearing On The Work You Must Compliet With The Requirements Of Paragraph 1.1 1.7 Or Obtain Permission For The Use Of The Work And The Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Trademark Asset Forze In Paragraph 1.8 Or 1.9 1.3 I Fan In Da Visual Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Electronic Quark Is Posted With The Permission Of The Copyright Holder Your Use And Distribution Must Complain With Both Paragraph 1.1 1.7 And Any Additional Terms Imposed By The Copyright Holder Additional Terms Will Be Linked To The Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato License For All Works Posted With The Permission Of The Copyright Holder Found At The Beginning Of This Work 1.4 Don't Unlink Cordy Touch Remove The Full Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato License Terms From This Work Or Any Files Containing A Part Of This Work Or Any Other Work Associated With Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato 1.5 Don't Copy Display Perform Distribute Or Redistribute This Electronic Work Or Any Part Of This Electronic Work Without Premanently Displaying The Sentence Set For In Paragraph 1.1 With Active Links Or Immediate Access To The Full Terms Of The Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato License 1.6 You May Convert To And Distribute This Work In Any Binary Compressed Mark Up Non Proprietary Or Proprietary Form Including Any Word Processing Or Hypertext Form However If You Provide Access To Distribute Cap Is Of A Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Work In Format Other Dun Plain Vanilla Asci Or Other Format Just In The Official Version Posted On The Official Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato Website www.gutenberg.org You Must At No Additional Cost Fior Expense To The User Provide A Copy A Means Of Exporting A Copy Or A Means Of Obtaining A Copy Upon Request Of The Work In It Sa Regional Plain Vanilla Asci Or Other Form Any Alternate Format Must Include The Full Project Gutenberg Simbolo Di Marchio Registrato License As Spesified In Paragraph 1.1 1.1 E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, or distributing any project Gutenberg Simbolo di marchio registrato works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9 1.1.8 You may charge a reasonable fee for copies or for providing access to or distributing project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg Simbolo di marchio registrato works calculated using the method you already use to calculate your application taxis The fees of the owner of the project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, but you agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date you prepare, or are legally required to prepare, your period of tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that s barra he does not agree to the terms of the full project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg simbolo di marchio registrato work. 1.9, if you wish to charge of your distribute a project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work or group of works on different terms done or set forth in disagreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation, the manager of the project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove free works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg simbolo di marchio registrato collection. Despite these efforts, project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited Branty Under Disagreement, Disclaim All Liability to You for Damages, Costs and Expenses, Including Legal Fees. You agreed that you ignore remedies for negligence, strict liability, breach of grant or breach of contract except Tose provided in paragraf 1.f.3. You agreed that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give a notice of the possibility of suck damage. 1.f.3 Limited Right of Replacement or Refund If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in l'uomo free fund. If you received the work electronically, the person oriented providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in l'uomo free fund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you a CS, with no other branches of any kind, express or implied, including beauty not limited to branches of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works in accordance with disagreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distraction. 2.f.6 Distribution of project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works, armless from all liability, cost and expenses, including legal fees, data rise directly or indirectly from many of the following which you do or cause to a care. A. A. Distribution of this or any project Gutenberg simbolo di marchio registrato work, B. Alteration, modification, or additions or deletions to any project Gutenberg simbolo di marchio registrato work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of project Gutenberg simbolo di marchio registrato Project Gutenberg simbolo di marchio registrato is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg simbolo di marchio registrato as goals and ensuring that the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg simbolo di marchio registrato and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation s. business office is located dati 809 nord 1500 west salt lake city 884 116 801 596 1887 email contact links and up to date contact information cambi found at the foundation s website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg simbolo di marchio registrato depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machinery a double form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment many small donations unto dollari 5 dollari al particularly important to maintaining tax exempt status with the rs the foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the united states compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such state to approach stati unity with of ours to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations receive from outside the united states us lo salone swan power small staff please check the project gutenberg web pages for current donation match and send addresses donations are accepted in a number for the ways including checks online payments and credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works professor michael s art was the originator of the project gutenberg simbolo di marchio registrato concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for 40 years i produced and distributed project gutenberg simbolo di marchio registrato e books with only a luis network of volunteer support project gutenberg simbolo di marchio registrato e books are of and created from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the us unless a copyright notices included tass we do not necessarily keep e books in compliance with any particular paper edition most people star 3 our website which is the main pg search facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg simbolo di marchio registrato including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks an instagram hm this also the the Grazie a tutti.